Buonasera Andrea, buonasera telespettatori di Honda TG. Eccoci con il nostro appuntamento settimanale con l'aforisma. L'argomento di questa sera è la nevicata di questi ultimi giorni e il piano neve attuato dal comune di Sulmona. Diverse persone mi hanno chiamato, mi hanno comunque interessato di questo argomento, mi hanno reso partecipe di questo argomento perché come succede in questi casi, come è logico, è normale, naturale che succeda in queste situazioni, c'è sempre chi apprezza il lavoro fatto dall'ente pubblico e c'è chi invece non apprezza ma anzi critica. Le critiche fanno parte della quotidianità, quindi è normale che sia così. Giustamente le persone che hanno ricevuto un servizio puntuale, preciso, perché hanno la fortuna di abitare su quelle arterie principali dove la neve è stata tolta subito e parlano bene, dicono che il servizio di pulizia, il piano neve è stato attuato in una maniera eccezionale. Le persone che abitano nelle zone un po' più decentrate, nelle strade secondarie, nei posti un po' meno frequentati, dove la pulizia è stata fatta, diciamo, dopo delle altre strade e dicono che il piano neve non ha funzionato e qua siamo in mezzo al casino, la neve si ghiaccia, si scivola e qua e là. Esistono sempre due popoli, è sempre se dice a Sulmona, diceva una vecchiarella, una vecchiarella, adesso l'anziano, diceva una volta o fa bonaccia o tiro l'uviente, la gente non è mai contenta, tradotto o se fa la bonaccia o se tira il vento il popolo non è mai contento, quindi se è troppo caldo, la gente se lamenta perché non tirano un filo di vento, l'estate, no, quando è tutto calmo, eh, non si muovono fuori, non tirano un filo di vento, eh, che cacchio, se stiamo spiatando, tira il vento, eh, sto vien da scucciare, forza la polvere, la polvere sul bucato, hai panni stese, eh, lo vien da qua, quindi, come dire, se piove ci lamentiamo perché piove, se fa il bel tempo ci lamentiamo perché fa il bel tempo, è normale, è impossibile accontentare tutti, è impossibile accontentare tutti, quindi qualunque sia il tempo c'è chi è soddisfatto e chi no. E qualunque sia, in questo caso, nel piano neve, qualunque sia stata la modalità di attuazione, qualunque se è stato efficiente o non efficiente, se è stato studiato bene o studiato male, c'è chi lo valuta in modo positivo, lo esalta, dice, bravo, brava questa amministrazione, bravo lo sindaco, bravo lo comandante dei vigili, bravo chi se ne hanno operati. E c'è chi, invece, non è rimasto soddisfatto che, come al solito, dice la sua in senso negativo. Signori, io questa volta voglio essere al di sopra delle parti, chi mi conosce sa che io, quando mi infervoro, perché sostengo apertamente una causa, mi arrabbio, vado anche oltre i limiti, molte volte mi rendo conto che supero anche determinati limiti, perché mi lascio prendere dall'emotività, dalla situazione, dalla gravità del fatto, però questa volta voglio essere razionale, voglio essere tranquillo e voglio fare il cittadino bravo, che, come quelli che stanno vedendo la partita, da sopra alla tribuna, io guardo il campo e giudico i giocatori che stanno nel campo, perché li vedo dall'altro. Giudico questo piano neve, da cittadino qualunque, da sulmonese o sulmondino, quello che un maggiore mi chiamà, che va buono tutti e due, che la neve ha fatta pure davanti a casa mia, non è che ha fatto solamente in altri posti, però, per quello che ho potuto vedere con i miei occhi e ascoltare con le mie orecchie, e quindi non per sentito dire, ma che ho constatato di persona, io mi sento di poter spezzare una langia a favore dell'amministrazione comunale, dell'ente pubblico e di tutti coloro che si sono impegnati nella pulizia delle strade. Intendo anche i volontari, perché al di là delle forze messe in campo dal Comune e anche dal COC, Centro Operativo Comunale, al di là dei vigili della pulizia municipale, al di là quindi delle persone preposte, ci sono stati anche tanti volontari che, non chiamati da nessuno, non pagati da nessuno, si sono messi con i mezzi o la pala, con qualche bobcat, eccetera, e hanno pulito e stanno pulendo, perché mentre io sto parlando, nella città di Sulmona, le operazioni di pulizia sono ancora in corso, in atto, e ci sta gente che sta pulendo i marciapiedi, che sta pulendo gli spazi, un po' che non sono stati fatti subito. Allora, dovete sapere, cari miei concittadini, ora lasciamo perdere quello che succede negli altri comuni, perché qua ogni Comune ha un piano neve a sé, ogni Comune ha una sua ampiezza, ogni Comune ha un suo bilancio e ogni Comune ha una sua organizzazione. Sulmona non è un piccolo Comune, Sulmona è una bella cittadina grande. Boh, volevamo parlare di questa cittadina? Non ne parliamo mai a sproposito. Sentiamoci orgogliosi di essere sul Montini. Sentiamoci orgogliosi, perché per quanti difetti possa avere questa città, ma ha un grande pregio, che è comunque una città di pianura, una città che ha una stazione ferroviaria, che ha un ospedale, che ha un tribunale, ancora, che ha le scuole di qualunque ordine e grado, è una città che ha un po' di tutto. Allora, in una città così complessa, che ha un po' di tutto, quando si fa il piano neve, giustamente si decidono delle priorità. Allora, se fa la neve, neve, notte, giorno, continuo, ed escono i primi mezzi e si organizza parte l'apparato della pulizia, non si va a casaccio, ma si parte, è come se ci fosse una classifica di importanza delle strade da pulire. Le prime vie che vanno pulite sono quelle che vanno all'ospedale, quindi le arterie che collegano l'ospedale con le strade principali, poi la stazione, poi la zona industriale, cioè perché dobbiamo consentire, innanzitutto dobbiamo avere aperta la via per i soccorsi, per chi non si sente bene, due per i mezzi di soccorso, per chi deve andare a lavorare, quindi, la stazione ferroviaria, e la zona industriale per i molti, i molti che lavorano nelle fabbriche. Quindi sono le prime vie, le prime strade che si cerca di sgomberare, cioè, logicamente, quando passa lo spartineve, che passa nella notte con le macchine parcheggiate, e lo marcia a piedi, e quella deve stare attento anche a non fare danni alle macchine ferme, lo spartineve fa la sua traccia in modo tale che possano passare quantomeno i veicoli che hanno le cadele, o le gomme termiche. È normale che davanti a qualche cangello ci sia mucchia la neve, è normale, non può l'operatore dello spartineve, ma capiamolo queste cose, non facciamo gli ottusi, insomma, capiamolo queste cose. È normale che l'operatore che sta sopra lo spartineve, specialmente di notte, non si può mettere davanti a ogni garage, retromarcia, mucchia, retromarcia, mucchia, avanti e indietro, avanti e indietro, specialmente se ha anche delle macchine dietro, se ha anche dei veicoli che si stanno in senso contrario. Cioè, si cerca di aprire il varco, poi, davanti a ogni garage, non dispiacerebbe se ogni interessato si pulisse il proprio varco. Sai, se ognuno avesse un po' di buonsenso, e ognuno pulisse quei due metri davanti a casa propria, non farebbe nulla di male. ma sarebbe un buon aiuto per l'ente pubblico. Non facciamo sempre i meridionali dove diciamo lo Stato ci deve dare, deve fare, deve dire. Io questo lo devo dire, guarda, io delle volte devo portare a dei paragoni vissuti di persona. Mi trovavo nel nord Italia, mi trovavo nel nord Italia, quando nel 94 ci fu lo stralipamento dei fiumi principali in Lombardia e ci fu un grande alluvione. Io mi ricordo che in Lombardia la gente restava là a piangere, lo Stato ci deve da... in Lombardia la gente prese la pala, prese gli scoponi e ognuno puliva davanti a casa, ognuno si toglieva il fango che i vari fiumi a partire dal fiume di Cino che era stralipato dalle parti di Pavia a partire dai vari fiumi che anche minori che il fiume Lambro cioè tutti i fiumi che erano andati fuori degli altri la gente ognuno puliva il suo spazio. Ognuno si rimboccò le maniche e puliva il suo spazio. Nello stesso periodo successe qualche cosa giù nel sud e mi ricordo che nelle giornate la gente i giovani di trent'anni ooooh che le braccia cuce lo Stato ci ha da mandare la protezione civile ci ha da mandare i soccorsi ci ha da mandare ci stava l'alluvione là con la gente che senza aprire le bocca si è rimboccata le mani si è messi in stemare e a pulire l'alluvione là la gente ooooh lo Stato ci ha da mandare allora sta mentalità che l'ente pubblico ci deve fare tutto usciamone un po' siamo giovani i giovani di oggi abituiamoci un po' a darci una mano reciprocamente è vero che l'ente pubblico ci deve dare perché paghiamo le tasse e quindi se paghiamo le tasse abbiamo una serie di diritti ma non ci dimentichiamo che in mezzo ai tanti diritti ci rimane pure qualche dovere e in questo piano neve molto criticato io sono certo perché l'ho accertato di persona altrimenti non starei qui a parlare e non sto difendendo nessuno e non sto accusando nessuno io sono certo che le segnalazioni di gente che ha i malati in casa dove ci sono i cardiopatici eccetera gente che ha chiamato al COC centro operativo comunale chi ha segnalato delle situazioni di emergenza la pulizia gli è stata fatta subito quindi le situazioni critiche sono state hanno avuto la precedenza sono state servite prima chi grazie a Dio grazie a Dio non ha delle emergenze in casa non ha delle situazioni drammatiche se anche sta neve ve lo vado lo giorno dopo non casca il mondo ma il comune sta continuando a mettere il sale per evitare che gran parte della neve si è sciolta grazie al Padre Eterno che il piano neve più efficace c'era Dio Dio è c'ha un piano neve efficientissimo lui mette la neve e lui la toglie la sa come toglierla anche perché la neve degli altri anni non ci sta più vuol dire che si è sciolata nessuna neve rimane a terra in Eterno può durare un giorno di più un giorno di meno battuto a parte il comune comunque sta provvedendo in questo momento allo spargimento del sale il che significa che tutto quel rivoletto di acqua che si crea durante la giornata quando si dice in dialetto va mullora cioè va nuvolo e quindi si scioglie la neve che fa quella polchiglia quella quando poi cambia il tempo si abbassa la temperatura e rasserena diventa una lastra di ghiaccio che è quella sì che è pericolosa quella lastra di ghiaccio che si crea ma il comune e mi è stato garantito da qualcuno che sta in prima persona col mondo il comune per rimediare a questo sta facendo spargere il sale quindi se dovesse rassenerare il rivoletto d'acqua non si congela non si crea la lastra di ghiaccio quantomeno rimane la polchiglia poi signori cari è normale la neve crea disagio noi non siamo Roccaraso non siamo Cortina d'Ambez non siamo i paesi di montagna che teniamo gli impianti sciistici noi siamo sul Mono sul Mono è una città che vive di tutt'altro non viviamo di turismo invernale sciistico cioè noi qua non siamo attrezzati per la neve nessuno può pretendere che sul Mono si compri 20 spartineve e tutti i mezzi per la neve grazie a Dio la neve la vediamo poco l'importante è che faccia sulle montagne e così abbiamo l'acqua durante l'estate poi che vuoi sciar va sciar a Roccaraso grazie a Dio che la neve la vediamo poco quindi però quel poco di disagio è normale che c'è ma il disagio lo crea la neve lo crea la siccità lo crea la pioggia che dura 4 giorni lo crea il vento che dura 24 ore 48 ore che tira vento e butta le piante a terra qualunque condizione climatica fuori dalla norma crea disagio noi facciamo un tram però da qui a dire che il piano neve di Sulmona è stato inesistente non sono d'accordo voglio difendere ribadisco il piano neve di Sulmona l'amministrazione comunale e tutte quelle persone che hanno contribuito e che stanno contribuendo a far sparire la neve consideriamo che lunedì le scuole sono state aperte tranquillamente consideriamo che la neve ripeto non durerà in eterno mi auguro che non ne faccia altra poi le critiche ben vengano perché aiuteranno sicuramente chi ha operato a migliorare il lavoro fatto quindi anche signore del comune signor sindaco signor comandante dei vigili signore della protezione civile chiunque sta operando se vi fanno qualche critica non la prendete a male utilizzatela come miglioramento per il futuro che delle critiche sono anche costruttive non tutte le critiche sono fatte tante po' fa qualche critica serve pure detto questo vi auguro buona serata e speriamo che stanno in questa squadra arrivederci a presto